Allora, questa stessa cosa succede anche poi dopo quando uno lo riporta a casa, perché tu magari hai fatto tutto lo sforzo, l'hai portato a strano e migliori una cosa, e dopo magari lo mettono in casa. Quella è una cosa poi culturale dell'altro, però per dire che tutti se ne fanno, noi abbiamo una cantina a Sote dove la prendiamo.